Leland, sei stato tu? Quando dico che non ricordo quel giorno, lo sto ammettendo. Vorrei farlo, ma non ci riesco. Sono Pearl Madison e sarò il suo insegnante di storia, il suo insegnante di qualunque altra cosa per tutti i giorni, settimane o mesi che resterà qui. Non do la colpa a Becky, forse dovrei essere sconvolto per com'è andata con lei. Io non voglio ferirti, ok? Allora non farlo. Credo di aver fatto uno sbaglio. Non aver paura di dirmi la verità. È giusto essere arrabbiati, insomma, mi hai tutto il diritto, sei un essere umano. È buffo, la gente lo dice sempre dopo aver fatto qualcosa di male. Non indovinerai mai chi è suo padre. 50 verdoni su satana. Ma lei è un attore? Non lo siamo tutti. Questo ragazzo è diverso. Il ragazzo ha compito anche te. Se vuole la sua storia, parli con i genitori del ragazzo. Domandi a loro come sono riusciti a crescere un mostro. Sono loro che hanno fatto qualcosa di male, non noi. Lei non ha il diritto di accusarmi di non voler bene a mio figlio. Io so quello che vuoi da me. Tu vuoi un perché? Solo darti modo di parlo a me. Se crede che io possa fornirle la chiave per capire il mio figlio, si sbaglia. Non c'è un posto particolare nel suo cuore riservato a me. C'è mai stato. Grazie a tutti.